Buongiorno a tutti, sono Domenico Palamara, voglio farvi ammirare questo bellissimo panorama con vulcano sullo sfondo. Mi trovo in via Pirera e vorrei approfittarne per segnalare un piccolo problema su questa via. Come potete vedere c'è una meravigliosa stradina con dei palli della luce, tutto pagato dagli abitanti del posto, però c'è un piccolo problema. Il problema è che manca l'input per far attivare l'elettricità dall'amministrazione. Lo dico perché alcuni abitanti hanno sollecitato questo problema e io mi trovo qui per segnalare e cercare di far sì che l'amministrazione e chi di competenza faccia il possibile per risolvere il problema. Ripeto, alcuni cittadini abitanti del posto di questa via, via Pirera in Piano Conte, hanno segnalato questo problema. Ai tempi l'asfalto e i pali dell'illuminazione della luce sono stati pagati appunto dagli abitanti che ci vivono, però questi pali non sono mai stati attivati, la linea elettrica c'è, però basterebbe solamente accendere l'interruttore, attivare l'interruttore per cercare di risolvere il problema. Ci tengo a precisare che non voglio fare politica, sono qui per l'interesse di questa piccola frazione, di questa piccola borgata e spero che appunto chi di competenza intervenga. Vi ringrazio dell'attenzione e una buona giornata con questo meraviglioso panorama.